che hai fatto 20 chilometri non c'è le esche cosa facciamo adesso non lo so te lo dico io cosa facciamo ci mettiamo questi belle prugnotte queste qua le vedete qui sono delle boys perfette vediamo un po e vediamo che cacchio riusciamo a fare vedete mi sono limitato le esche e mi becco queste e adesso vediamo che cosa combiniamo ma chissà se reggono prendiamo quello un po più dure potenere però potrebbe anche essere la svolta ora metto per chiudere il tutto solo tagliamo e che cosa combina se funziona questo sono io full thammer pesca originale non sono tenevissime però soltiamo molto vicino perché non voglio lanciare più del tanto in là eccolo lì ci proviamo dai chi sa che cacchio ho preso oh oh mmm fatighetto in buona dimensione mancata è ancora un gatto è ancora un gatto Sì Alla sera sono inquietanti Che bel canale ma di chi sarà un canale pesissimo veramente bello iscriversi subito ragazzi iscriviti subito